La ditta R2 dei fratelli Rimensi, che vanta una solida esperienza nel settore dei servizi in movimento terra, scavi, demolizioni, trasporti e vendita riciclato, è un sicuro punto di riferimento per imprese di costruzione, cooperative, enti pubblici e privati cittadini. La ditta R2, grazie all'alta professionalità e al parco macchine sempre all'avanguardia, è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del cliente. R2 dei fratelli Rimensi Luca e Stefano, Amasi Torello e Quartesana Ferrara.